Oh ragazzi, siamo in pesca, qua le canne scrause ragazzi, qua c'è una roba, c'è una montatura, la ghi cesena, la carpa, adesso vediamo se riusciamo a fottere qualche pescetto, riusciamo a fottere qualche pescetto magari, qua c'è sta tutta la roba, l'attrezzatura, abbiamo un ombrellone, non serve una minchia, perché c'è il coso, qui abbiamo il signore che fa le montature, che montature stai facendo? Combi rig, con una 14 affondante, 14 e mezzo popà, niente, stiamiamo il campo base, poi quasi quasi lancio anche questo, vediamo un po' come gira il tutto, e aspettiamo una partenza. Prima, prima, finalmente, prima è partita. Prima, prima. Prima, prima. Grazie. Grazie. Vi lascio del microbo, la prima se ne va, adesso mangio sulla mezza. Come l'hai presa? Ci illustri la montatura? Ecco qua. Prima va 70 grammi, combi rig, poi mezza affondante un po' distrutta. No, una affondante del patatice e mezza pop-up del patatice. Niente, questa è stata l'arma. Un'altra, intanto, sta prendendo pesce. Gli unici che finora ne hanno preso una, con 5 canne calate. Loro con 2-3 canne ne stanno prendendo una dietro l'altra. Vabbè, speriamo che si stiano attivando un pochettino. Là c'è un colborano. Niente, praticamente, abbiamo un sacchettino in PVA con dentro pellet. Diversi tipi di boilers briciolate tipo Scopex. Queste qua sono alla fragola un po' farinose. E forse Monster Crumb, ma non penso. Innesco pop-up fragole banana e fragola. E' bilanciata chiaramente. Adesso lo buco un attimino, così magari affonda. Poi lo lanciamo. Dobbiamo bucarlo, sennò non affonda. Perché è pieno d'aria. Mentre si scioglie l'acqua. E poi posto ora sul punto preciso, speriamo. e poi, faremo nemmeno ritirvi al Forno. E poi, faremo icilia. E poi, faremo i pericolini in un po' far studenti. E poi, faremo i pericolini. Poi quello che sono realizzato, permudco, ha riuscito a fare un utile per noi. E poi, faremo il risultato. E poi, faremo una prospettione. Dai, faremo giocatore. E poi, faremo gli pericolini. Poi faremo gli pericolini. E poi, faremo gli pericoli. E poi, faremo i pericolini. E poi, faremo di ritmo e lavorare un po' dove adesso ci si può gonfiare un' industria. posta l'altra perché non è molto letizia e è partita la canna si mi ha mangiato falso su sta qua è una specchi mi sa, no è una regina sempre una regina sempre molto piccola una piccola reginetta, come quella di prima sempre i cari comunque non fanno niente adesso ci spostiamo, speriamo bene è affondante stavolta più o meno sono calde come... non so quando sei caro l'acqua un brodello stai calmo stai calmo carpina carpetta potete assoluta parete al venti perfetto bucate bucate veramente bucate forse anche la prima buono speriamo via se si va lo rilascio queste vanno subito non c'è bisogno neanche di assigeno via speriamo che si stiano attivando un pochetto speriamo che si stiano attivando un pochetto alzami una carta tieni sotto tieni per la sotto sepettare tieni tieni la non non la non Grazie a tutti. Oh, ma la via c'era il filo che è andato in calabra. Che porta. Che buone sveglioni. Finalmente. Buona. Dai. Avanti. La venga. La tiriamo proprio su. Qua. Sul tavolo. Sul tavolo. La venga. Grazie. Tutto più o meno. Tutto più o meno. Sembra più grossa. Ma invece ci sono. Beh adesso un bellino e combattono. I pesci. Occhio o no. Sganciaglielo poi. Poi abbiamo un punto. Questo lato. Ok. E' perso la boides. Eccola lì. Quella l'innesco. Si il pupazzino di neve un po'. A metà. A metà. A metà. Oh. Guarda chi ti ha dato eh. Ho perdito anche un po' di frizione. Non parte la lascio. Si si si. Guarda che ce l'hai eh. La ferri? Te la ferro io o te la ferri te? Eh. Vediamo qua. Potremmo avere una partenza in diretto. Ti faccio direttamente il video dai. Si si. Oh. Occhio ferma. Sarebbe una culla più forte. Eccola qua. Eccola qua. Eh. Madonna quanto si muovono questi pesci. Ti le mani sugli occhi. Eccola. Vediamo se si può vedere. No. Non si muovono a vedere. Ah. Ah. Mi sta sberdando. Te che forse riusciamo a far venire fuori un bel video di carfisic. Tu sei. Vaffanculo. Oh è come quella mia. Fatti fare. Madonna. Eccola qua. Finalmente. Ecco qua. Ed è la terza. Come era quella di prima. La terza. Questa è la tua. Abbiamo la bocca un po' particolarmente rotta. Eh. Capita. Questi pesci sono. Questi pesci vengono presi spesso. Si. Quindi capita che siano. Che abbiano la bocca rovinata. Boh. Figuriamo che non c'è più voglia di farlo. Vi lasciamo. Vi rimettiamo giù le carne. Sempre a massimo curo. E' un po' più addormentata forse. Ne rilascio. Vediamo. No. Si mette qua sotto. Eh se ne va. Bella. Bellina. No. No. Ben Blai. Grazie a tutti.